Ciao, sono Noemi, ho 16 anni e vivo a Borriana. Frequento l'Economico Sociale, che è un liceo scientifico. L'anno scorso e anche quest'anno mi ha dato l'opportunità di andare a fare un viaggio di studi a Dublino. Dato che mi sono trovata molto bene, ho un pensiero sull'andare a vivere in un futuro là in Irlanda, anche perché è molto diverso qua dall'Italia, le persone sono molto più aperte, disponibili e anche come ambiente mi sono trovata molto meglio. Però ho anche un pensiero di studiare psicologia criminale qua in Italia, essendo che comunque ha una base sulle scienze umane e il motivo di questo pensiero è che vorrei capire il perché ci sono delle persone che fanno cose brutte o cose gravi in questo mondo e delle cose comunque sbagliate. Mi piace perché vorrei capire il comportamento e cosa spinge le persone ad arrivare al pensiero di ucciderne un'altra per il proprio bene piuttosto che per altri motivi. Faccio ginnastica artistica alla Pietro Micca. Da un annetto ho iniziato ad aiutare i miei allenatori per guardare e insegnare ginnastica alle bambine più piccole. Per il resto alla sera ovviamente esco con le mie amiche per i locali di Biella, anche se ultimamente esco di più a Torino per motivi calcistici. Mi piacciono anche gli eventi che si organizzano a Biella, anche se secondo me purtroppo i giovani criticano molto che non viene mai fatto niente in questo paese e poi magari sono i primi che non partecipano a questi eventi perché preferiscono altri locali piuttosto che altre cose da fare alla sera.